Giovedì 23 aprile, puntuali alle 7.30. Buongiorno, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di 696 TV. Insieme andiamo a leggere le notizie che potete trovare nei quotidiani quest'oggi in edicola. La prima della parte finale è dedicata al web con ampio spazio al nostro portale 8pagine.it. E allora, grazie all'aiuto in regia di Aldo Fenizia, intravediamo le prime dei quotidiani cartacei e iniziamo, come di consueto, da il Roma, lo storico quotidiano di Napoli. In apertura Delivery Impossibile è il titolo scelto da il Roma con l'hashtag Io Resto a Casa, 45esimo giorno in questo diario dell'isolamento forzato. Potranno riaprire lunedì anche bar, pasticcerie e gelaterie, ma solo con ordini da casa e consegne a domicilio. Troppe le prescrizioni da rispettare pochi possibili clienti, in molti pensano di restare chiusi. Ha scelto, coordina un pool di ricerca del CNR, insulti razzisti di feltri. Dal sud partono esposti e denunce. L'analisi fuori dall'Europa resta solo la Cina, l'esperto, ma oggi in Italia. L'Italia faccia sino in fondo la sua parte. Il corsivo c'è la Milano da bere, perciò ha vinto il sud. L'opinione di Gerardo Mazziotti segue a pagina 31, liberazione e pandemia. Il 25 aprile non sarà festa. E poi inchiesta Tufo, fiumi di cocaina per la Napoli bene, indagine in bilico. Fuori il supernarcos. Andiamo all'interno del Roma con la speculare di pagina 2 e 3. A pagina 2 c'è l'intervista al Presidente della Camera di Commercio Partenopea. Saremo vicini alle imprese in difficoltà. Fiola, un primo passo verso la normalità. Confcommercio e Fipe, Russo e Di Porzio soddisfatti, un segnale importante per i lavoratori. In taglio alto, a pagina 2, l'assessore comunale di Napoli, Galiero. Ci eravamo esposti nei giorni scorsi. Le prescrizioni sanitarie saranno rispettate. Finalmente le risposte a legittime richieste delle categorie produttive. Sempre a pagina 2 di Roma, oggi in edicola. Prisco, Nidil CGL, le grandi aziende non si sono preoccupate di fornirci i dispositivi. I riders sul piede di guerra, noi senza alcuna protezione. Ed ancora, Salvatore Grossi, titolare della trattoria La Campagnola alla Sanità. Segnale per ripartire, ma lo Stato non ci è vicino. Ed ancora, Enzo Castiglione, proprietario del bar Vincafè di Via Epomeo a Soccavo. Vedrò se conviene accollarsi i costi per poche ore. Pagina 3. Si va nel dettaglio dell'ordinanza del governatore De Luca. Inizia il rilancio delle attività economiche, ma serve un rigoroso rispetto delle regole, delivery e librerie. Ecco come riaprire certificazioni sanitarie e sanificazione continua dei locali, pena sanzioni amministrative e chiusure. Poi c'è questo specchietto riassuntivo con le disposizioni previste dal 27 aprile al 3 maggio, con gli orari di apertura di attività e servizi di ristorazione, modalità per la compravendita. Insomma, davvero tutti i vari dettagli di questa ordinanza per l'inizio della fase 2 anche in Campania. Teresa Iorio, in taglio basso, ristoratrice e campionessa mondiale di pizza STG e fritta, la consegna a domicilio, non risolve i nostri problemi. Ciro Poppella, famoso pasticciere del Rione Sanità, è molto perplesso con questi orari e condizioni. Ora è meglio non aprire e dunque la riapertura suscita un sospiro di sollevo, ma anche tanti punti interrogativi, questa riapertura graduale. Siamo ora a pagina 26, ancora sul tema delle pizzerie, solo delivery, cresce il malumore. Vincenzo Stajano Ozzianiello lo aveva detto, queste condizioni non apro, queste anche le reazioni da Castellammare di Stabbia, ma dopo aver ampiamente parlato di questa riapertura graduale per anche le attività di ristorazione, andiamo a capirne di più con il servizio della nostra Rossella Strianese. Alla fine De Luca sul cibo d'asporto ha ceduto. Le condizioni epidemiologiche del virus in Campania oggi probabilmente hanno consentito alla Regione di emanare l'ordinanza tanto attesa, soprattutto dalla categoria dei ristoratori. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 fino al 3 maggio, su tutto il territorio regionale sono dunque consentite le attività e i servizi di ristorazione, tra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie. Quanto ai bar e alle pasticcerie, dalle 7 alle 14, gli altri esclusivamente dalle 16 alle 22. Per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica oppure online e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l'obbligo di attenersi alle prescrizioni con dispositivi di protezione individuale e distanziamento. Inoltre riaprono le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartolerie e libri, esclusivamente dalle 8 alle 14, con raccomandazione di promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica oppure online e la consegna sempre a domicilio. L'ordinanza stabilisce infine che per le festività del 25 aprile, 26 e 1 maggio tutte le attività commerciali resteranno chiuse, anche i supermercati. Per i trasgressori, su orari di apertura e prescrizioni sulle modalità di vendita, le sanzioni vanno da 400 a 3.000 euro fino a chiusura dell'attività per un mese. Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, ha detto il Presidente della Regione De Luca. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. E avverte i commercianti che occorrerà utilizzare i prossimi giorni per la sanificazione e l'igienizzazione di tutti i locali, per sottoporsi alle visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario. Rieccoci in studio, ma solo brevemente perché siamo già sulla prima della Repubblica nella sua edizione nazionale. 10 milioni a rischio povertà è il titolo della Repubblica. Il deficit vola a 180 miliardi e il Sud è una bomba sociale. Parla Letta, no a nuove tasse, subito lotta all'evasione. Gualtieri rassicura da luglio previsto il rimbalzo del PIL. Dal 4 maggio tornano al lavoro 2 milioni e 800 mila persone. A giugno bar e ristoranti, i sindacati, sanzioni alle aziende che non garantiscono sicurezza. Conte non è un liberi tutti la puntualizzazione del Premier. L'editoriale di Ezio Mauro, la seconda infezione, così è titolato. E poi lo studio, conto da rifare, i morti sarebbero 10 mila in più. Ancora di spalla nella prima della Repubblica, i medici senza difese. Maddalena, anestesista, vittima numero 145. Il tragico bilancio di medici e infermieri che hanno perso la vita per combattere in prima linea il Covid-19. Questa che vedete nella fotografia è la scalinata della chiesa di Trinità dei Monti a Roma, deserta e sono tante le fotografie che vanno a narrare di questi giorni davvero drammatici sotto tutti i punti di vista con scene surreali. Il racconto, dunque, l'ultimo silenzio della mia Roma, a firma di Corrado Augas a pagina 21. In taglio basso, la ricerca in Italia, i under 35 più pessimisti di Europa, addio ai progetti e poi scalfari e aspesi. Che cosa resterà dei giorni crudeli domani? E ne dicono, ovviamente, il venerdì della Repubblica. All'interno, speculare di pagina 2 e 3, la crisi, casa, cibo, medicine e bollette. 10 milioni rischiano di non farcela. La Caritas, da noi tanti nuovi poveri. Ed andremo poi ad approfondire a breve anche questo tema. Il punto, record di Guariti, ma preoccupa il Piemonte di Spalla. Ancora a pagina 2 andiamo a vedere questo scatto fotografico. Solidarietà. Alcuni giovani della Brigata di Solidarietà, Lena Modotti, distribuiscono a Milano beni alimentari di prima necessità ai più bisognosi. Taglio basso, gli aiuti alla ripresa. Il Governo prevede 180 miliardi di deficit. Gualtieri, rimbalzo PIL nel secondo semestre. Ancora altre notizie. E nella fattispecie l'intervista di Enrico Letta a pagina 3 della Repubblica. Ora ci serve l'Europa. Chi non la vuole sceglie la patrimoniale. Alcuni estratti della intervista a Enrico Letta, nato a Pisa nel 66, ex premier, dirige la scuola di affari internazionali a Parigi dal 2014. La Commissione e la BCE hanno fatto in quattro settimane quello che non avevano fatto in quattro anni. C'è grande solidarietà. E poi bisogna usare, ha detto Letta, le scuole anche in estate per aiutare chi è più in difficoltà e poi ripartire con la massima presenza possibile. Pagina 2, pagina 3. Abbiamo letto i titoli e siamo ora su pagina 4 con un focus sul sud, mafie e lavoro perduto. Così sta sprofondando un pezzo d'Italia. Un milione e quattrocentomila persone in più verso la soglia di sussistenza. Bianchi dello Svimez, subito i finanziamenti. Andiamo a leggere un estratto delle dichiarazioni del Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in un'intervista alla Repubblica del 27 marzo scorso e a rischio la tenuta democratica. Ci sono aree sociali e territoriali esposte a ogni avventura. Ancora, in taglio basso, altre dichiarazioni. Luciana Lamorgese, la Ministra dell'Interno, ieri durante il Question Time al Senato, la ripresa sia nel segno della legalità, attenti ai reati spia come estorsione, usura e riciclaggio il monito. Ed ancora, Federico Caffiero Derao, Procuratore Nazionale Antimafia alla Repubblica, il 6 aprile del 2020, aveva dichiarato le mafie sfrutteranno la crisi sanitaria per mangiarsi l'economia. Andiamo avanti. E c'è la pagina 6, la ripartenza nel dettaglio. La fase 2, i sindacati chiedono sicurezza e sanzioni. Conte, quest'estate, tutti in vacanza in Italia. Conte che ha dichiarato la revisione delle misure di distanziamento sociale non significa un liberi tutti, ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre. E poi vedete ancora a pagina 7 il piano Colao, fabbriche e costruzioni. Il 4 maggio tornano al lavoro 2,8 milioni di persone. Tutti i numeri di questa fase 2, i criteri dei permessi, nuovo lockdown, nei territori dove il contagio riparte. E insomma, tantissimi dettagli. E chiudiamo le pagine della Repubblica Edizione Nazionale con la vignetta di LK e fa che legge 5 stelle si comportino in maniera responsabile. Amen. Questa preghiera. E poi vedete queste emoji che sbucano fuori dal PC del protagonista di questa vignetta. Andiamo avanti con la prima pagina della Repubblica nella sua edizione Napoli. E ritorniamo a parlare del tema di pizze e cibi a casa. Le aziende, bene, ma troppi di vieti. Il via libera della regione alle consegne a domicilio per ristoranti, bar e passiccerie divide gli operatori ora ristretti e costi alle stelle. L'emergenza coronavirus ovviamente trova spazio anche nell'intervista di spalla a Tripaldi, perplessi dalla nomina di Limone. ovviamente sotto un'altra sfumatura. Il direttore di virologia al Cotugno singolare, un veterinario coordinatore del piano tamponi. Altra sfumatura nel senso che non mancano anche in questo momento le polemiche. Il caso, il nuovo Covid hospital, lo retomare, mancano medici per aprire la terapia subintensiva. e sempre nella prima della Repubblica Napoli. Il commento crisi alleviata serve una nuova strategia. L'analisi di Luca ora è più forte. Fontana scende, le idee, ma se le regioni alzano muri, minano l'unità. Alfredo Guardiano, pagina 15. L'intervento di Moni Ovadia difendo il teatro, ci protegge dall'uomo malvagio. e poi la protagonista, Serena Rossi, doniamo cibo ai bisognosi. Ilario Urbani, pagina 12. Parlavamo ancora una volta, sfogliando e vedendo insieme la prima della Repubblica Napoli, del tema di pizza e cibi a casa, di questa graduale riapertura, ma è anche il tema delle mense con tanti nuovi poveri a tenere banco. Allora vediamo il servizio di Simonetta Iepariello. Crisi da coronavirus sempre più poveri alla mensa di Porta Capuana. Aumenta il disagio sociale per l'emergenza sanitaria che avanza e che ha bloccato le attività lavorative. La denuncia del responsabile della mensa dei poveri del centro di Napoli è chiara. Sono sempre più numerose le famiglie che fanno ricorso all'aiuto della struttura. L'utenza è sicuramente mutata. Man mano si va avanti, aumenta sempre più il numero e ci sono sempre più napoletani che si avvicinano, in particolar modo famiglie, quindi capo famiglia, papà un po' disperati che arrivano qui con l'esigenza di andare a sfamare un po' tutta la famiglia che li attende a casa. Prima accoglievamo sicuramente con un sorriso, adesso è un po' complicato far emergere il sorriso oltre la mascherina e abbiamo imparato anche a sorridere con gli occhi. Ma sono davvero sempre più numerosi i volontari che hanno deciso di scendere in campo per dare una mano. Perché non solo stanno affacciando le persone che hanno bisogno bisogno di un cestino, ma diverse famiglie che sono esclusi da ogni circuito che hanno bisogno del famoso pacco alimentare o meglio di una solidarietà più importante dove si va a distribuire una quantità di cibo importante. Con questa emergenza stiamo avendo un piccolo, forse grande piacere, quello di conoscere per l'ennesima volta il grande cuore di questa città di Napoli attraverso una cittadinanza attiva in particolar modo giovani che si stanno avvicinando a realtà come questa per dare una mano a chi ne ha bisogno. Il mattino edizione nazionale in apertura uffici, presenze dimezzate e andiamo allora a leggere l'approfondimento che sceglie il mattino per la sua apertura. Il piano Colau per la fase 2 gli over 60 sono dati dal lavoro ma Conte dice no. Dal 4 maggio tornano operativi 2,7 milioni spostamenti tra regioni ancora vietati e ancora di spalla nella prima del mattino edizione nazionale decreti Covid le limitazioni alle libertà nel solco della carta. I temi sono altri invece nei sommarietti sul replay il viaggio di giovanotti dalle spiagge al deserto per trovare la bussola e poi lo sport senza meta il governo gera il calcio la ripresa del 4 maggio si allontana di nuovo. Ieri è stata una giornata campale con vertici per tutto l'arco della giornata a partire dal question time al senato del ministro Spadaforo in mattinata e poi oggi il consiglio UE l'accordo per ora non c'è Mattarella serve solidarietà in provincia di Napoli sono 6 i comuni con 0 contagi controlli casa per casa ancora debiti e virus i segnali di vita che deve dare l'Europa firma Paolo Balduzzi continua pagina 35 e poi Campania le regole sul cibo da sporto per bar e ristoranti pizze e caffè a casa Napoli si muove si prepara il forno per la ripartenza della pizzeria Matozzi di Piazza Carità turismo il petrolio italiano senza un piano penisola sorrentina 16.000 stanze vuote gli inglesi torniamo cancellati 400 matrimoni nel chiostro di Sorrento a Rigo Cipriani dal governo per ora solo promesse le idee teatri e Pompei la cultura al sud non dà scosse e poi i focus del mattino orari piattaforme e voti la scuola online senza regole l'intervista Cacciari non fa sconti ministero imbarazzante ragazzi allo sbaraglio Picone a pagina 10 per tutti i dettagli questa è la prima del mattino edizione nazionale noi continuiamo la nostra rassegna spostandoci sulla prima del mattino edizione Napoli l'apertura è ancora una volta dedicata a pizza e caffè ripartenza a metà l'ordinanza si parte lunedì cresce il fronte di ristoratori che non apriranno è antieconomico cibi a casa solo dalle 16 alle 22 mentre bar e pasticcerie dovranno chiudere alle 14 voglia di Napoli la nostalgia del volo di Coulibaly a Torino ieri due anni dal colpo di testa decisivo nel match allo stadion contro la Juve ricordato dallo stesso Coulibaly attraverso il suo profilo Twitter il riconoscimento Elena il nuovo alfiere ha dato voce ai disabili e poi il mio maestro feola l'incontro con Muti la mia seconda chance la solidarietà è subito corsa per l'affido della bimba di due mesi Marianne la neonata abbandonata mascotte della Napoli che risorgerà ed eccola la piccola Marianne in braccio al consigliere municipale Paolo Lopomo la crisi circolo posillipo avanza lo sfratto l'SOS di Marinella la ripresa bus ogni metro due viaggiatori caccia ai mezzi e poi il malessere il futuro spaventa chiamate triplicate al telefono amico i volontari tanti rimasti senza lavoro la avvertenza Whirlpool riapre no dei sindacati oggi tutti in cassa integrazione e ancora la giustizia pericolo contagio in cella anche Cutolo ci prova richiesta di arresti a casa la criminalità troppi controlli in strada droga inviata per posta la fase 2 fase 2 della camorra questa è la prima del mattino edizione Napoli noi proseguiamo siamo ora sull'edizione Avellino del mattino stesso in apertura Moscati il ribaltone dei contagi l'emergenza coronavirus si attende la conferma degli esami effettuati presso il laboratorio del Cotugno ripetuti i tamponi sugli otto dipendenti positivi l'esito è stato negativo per tutti la fase 2 sospesa l'attività di 18 fabbriche ed ancora in taglio alto spazio al calcio la gente spinge Parisi lontano dall'Avellino Mario Giuffredi ha preso la procura di Fabiano Parisi da pochi mesi la cronaca invece restituisce questo episodio a Tripalda tenta il suicidio donna salvata in extremis siamo ancora nella prima del mattino edizione Avellino la giornata gli infettati di giornata sono 5 e parte lo screening nelle carceri nel capoluogo la regione consegna 23.000 kit mascherine festa si fa bruciare tra virgolette da De Luca la prevenzione Lauro conto alla rovescia per i controlli a tappeto ed ancora in taglio centrale Baianese l'omaggio illegale al feretro di Sommese per Biancardi e i sindaci si avvicina l'isolamento la liberazione da oggi stop alla zona rossa Ariano esce dalla quarantena e poi l'esploi a Monteverde la prima birra prodotta con il luppolo irpino il cinema vintage tutto a Campogenova anche il parcheggio drive-in questa è la prima del mattino edizione Avellino continuiamo siamo ora sulla prima del mattino edizione Benevento in apertura covid-19 record di guarigioni il report zero contagi per il terzo giorno di fila al rummo restano 20 degenti continua la gara di solidarietà sale a 81 numero di pazienti usciti dal tunnel la clinica focolaio si svuota 25 dimissioni l'intervento didattica a distanza e il patto sociale in taglio alto San Giorgio del Sagno chiede il pizzo con l'ascia arresto nel centro migranti Sant'Agata de Godi colpo di fucile in aria il giallo della lite e poi ancora in taglio centrale l'intervista all'analisi del procuratore Policastro usura fondi pubblici e riciclaggio adesso si rischia un'altra emergenza e poi i servizi a marzo più costi e conferimenti rifiuti allarme della SIA tari a rischio aumento la svolta da lunedì previsti ingressi contingentati a tempo cimitero altre telecamere riapertura ai visitatori l'urbanistica Burger King ore decisive progetto in bilico i trasporti Leav frena Valle Caudina altre verifiche ed ancora in taglio basso il calcio Benevento voglia via maer bus ripresa intanto la Lega B compatta ha chiesto di riprendere il campionato a margine dell'assemblea straordinaria che si è tenuta nella giornata di ieri l'orientamento Robopoli Unisannio Hackton per scovare i furti i futuri talenti e andiamo avanti dopo la prima del mattino edizione Benevento siamo già sulla prima del mattino edizione Caserta e andiamo allora a vedere il titolo in apertura virus impennata di Guariti il bilancio un solo nuovo caso positivo il vigile urbano di Caserta non è malato lo escludono ulteriori verifiche in 25 fuori dal coronavirus Marcianise muore una donna di 80 anni taglio alto le società il CONI stop fitto impianti e tasse o sarà crisi dei club il basket Juve il blocco va avanti non si gioca senza tifosi e poi il commercio ristoranti bar e pasticcerie solo a domicilio molti rinunciano e andiamo a leggere anche due storie relative a questo momento storico senza precedenti pressoché senza precedenti le storie Amsterdam qui riaprono elementari e materne la testimonianza raccolta da Tirelli a pagina 22 e poi le storie sono su Facebook per stare vicino ai tanti fedeli in quarantena taglio centrale vedete innanzitutto questa notizia la criminalità fucile e pistole in casa arrestato l'armiere e poi il progetto di ripresa la reggia lancia il nuovo brand vicini alla città ma sulla pagina del monumento fioccano le critiche per l'assenza dei disegni grafici taglio basso casal di principe campionessa di legalità premiata da Mattarella la giustizia ecco il primo processo ibrido causa virus e poi Maddaloni carambola con l'auto muore militare 33 notizia drammatica per chiudere la lettura delle notizie nella prima pagina di caserta del mattino e andiamo allora avanti proseguendo la nostra parte dedicata ai cartacei con l'ultima prima quella del mattino edizione Salerno zero contagi è la prima volta e questa è l'apertura del mattino edizione Salerno l'epidemia non c'era focolaio chirurgia muoiono altre due donne reparto della vergogna torcuato ora un'indagine nessun positivo sui 336 test di ieri rugge un milione per gli straordinari medici è polemica e poi in taglio alto il racconto epistolario sentimentale ai tempi della pandemia l'illustrazione dipingeremo ancora la nostra vita a colori la scuola studenti e prof a distanza niente abbracci maturità sicura due storie anche nella prima del mattino edizione Salerno la prima i nostri video girati in casa per i film di Salvatores Barbara Cangiano nella fotografia e poi la storia Barbara Cangiano autrice dell'articolo a pagina 25 altra storia suono il violino sul balcone ultimo maggio a padre Olimpio ancora il taglio centrale le altre vittime Sanseverino e Sala piangono l'imprenditore e la nonnina il vicequestore guarito due mesi di quarantena così ho sconfitto il covid e poi la fede chiese la fase 2 dei vescovi riti e feste linea comune ancora in taglio centrale il caso troppi paletti nell'ordinanza regionale i gestori tanti di noi non riapriranno consegne a domicilio no grazie e dunque anche sponda salernitana ci sono reazioni contrastanti su questa ordinanza regionale la cultura una maratona social per la giornata del libro e per concludere la politica a Kunzo espulso dal movimento 5 stelle mancati versamenti lo schianto in autostrada dio al caporale 33enne incidente a Eboli notizia drammatica che trova spazio anche nella prima del mattino edizione Salerno e poi il calcio il club di B si rimettono al governo Pisa Creta dell'Aia non ci siamo noi ci siamo altra fumata nera la ripresa è un'incognita questa è la prima del mattino edizione Salerno abbiamo concluso la parte dei dedicati quotidiani cartacei e ci spostiamo allora sul web con 8pagine.it il nostro sito internet covid ancora contagi al minimo in Campania il nostro live giornaliero De Luca firma l'ok al cibo a domicilio ma chiude tutte le attività nelle prossime festività ancora la home di 8pagine.it Feltri e i meridionali inferiori chi si loda si imbroda l'approfondimento a firma di Enzo Spiezia per quello che si può definire il caso Feltri e poi covid-19 nessun focolaio al Moscati i sanitari negativi al virus i tamponi processati al Codugno hanno accertato la negatività al coronavirus di medici e infermieri sempre nella home di 8pagine.it in taglio basso trovate tante notizie che arrivano dalle varie sezioni provinciali 53 positivi ieri un solo caso nel Sannio 2623 tamponi processati e poi mascherine consegnate le prime 6000 ad Avellino ma servono altri tre giorni per completare le assegnazioni nel solo capoluogo ancora home di 8pagine.it altre notizie che arrivano dalle varie sezioni provinciali il cimitero di Benevento riaprirà il 27 aprile l'accesso sarà contingentato e occorrerà indossare la mascherina altre news passiamo in rassegna alla home page del nostro sito internet restiamo a Benevento offese a meridionali Ricciardi presenta due interrogazioni la senatrice del Movimento 5 Stelle sulle frasi pronunciate da Vittorio Feltri su rete 4 e in un servizio Rai 3 ancora la home di 8pagine.it un'ultima notizia prima di salutarci ancora la sezione Benevento Covid-19 numeri in calo nel Sannio 131 nei positivi i dati comunicati dall'ASL nel pomeriggio di ieri 25 le persone guarite ancora la home page vi invito a rimanere collegati per tutti gli aggiornamenti in tempo reale leggiamo un'ultima notizia davvero un ultimo titolo per ciò che concerne la home attualità unità speciale di pronto intervento sociale ad Ariano Irpino modello unico in Campania nella lotta del Covid-19 Ariano Irpino che ha visto cessare il suo stato di zona rossa alla mezzanotte di ieri rientriamo allora in studio vi ricordo l'appuntamento con la diretta delle 11 per tutti gli aggiornamenti dalla Campania per ciò che concerne l'emergenza coronavirus per il momento è davvero tutto un ringraziamento in regia ad Aldo Fenizia e buon proseguimento con la nostra programmazione Grazie a tutti